Sono delle immediate aviacenze del palco reale ed è Dave Bisham, il portiere che guida i suoi a raccogliere le felicitazioni della principessa del Galles, e vedete Dave Bisham. Che raccoglie la Coppa dalle mani, il Lady Di, ovazione dei sostenitori del Wimbledon. Questa grande stasera dalle loro parti, ancora a primo piano per Dave Bisham, il Wimbledon vince la Coppa d'Inghilterra sul Liverpool. Vi ricordo ancora, Golgi Sanchez, al trentaseiesimo del primo tempo, ultima inquadratura per Dave Bisham, grazie per la cortese attenzione a voi tutti, una buona serata. Il momento degli sconfitti, il capitano Hanson, vedete la tristezza nel volto dei giocatori del Liverpool.